è un anestetico pesante se te lo danno dopo l'opera ma perché non funziona quella app che tu devi fare che io ho spilina come l'app per me ah capito allora andiamo, aspetta dobbiamo andare io direi di andare verso di qua partiamo da questo lato qua perchè forse qua ne mancano quattro luoghi che sono queste poi qua di qua vado a visitare a un luogo speduto non visitato ah si ho capito quello la sopra a destra no? dove non c'è niente dove c'è la casa lì anche perchè io non ho mal di testa e mi cramia che ancora peggio ma comunque ti provo mal di testa ma non solo quello che lo vedo ero si è mal di testa che dopo provoca vomito un'altra cosa fa venire si si no se ne pilla male vado in ospedale di solito la gente qua mi trova del cromo sarà un po' da me diciamo gente qua vada se lo sapevo dove è? no ci accende anche qua eh ma stanno dappertutto un po' dappertutto questo è un botto e lo uccido addio uno lo uccide eh passano in due e tre arrivo eh ma qua il cromo dov'è che lo trovi qua? si mi sale su sui cacchi ma no lo vedo eccolo là eccolo lo vedo io eh lo metterò uno da dietro oh che fa di anima no? colpito? si affondato? e quell'altro dove ce n'era un altro eh l'ho battuto ah ecco il cromo qua c'è madonna che culo eh andrew ce n'era un altro qua di sotto eh ma io è morto diretto qua cosi no no non è morto qua dentro perchè erano in due è morto eh si uno l'ho battuto prima e poi questo qua lo ucciso erano due infatti c'è il bidone qua lì eh lo tiro aspetta 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 e poi devo lo prenda ecco la ecco l'arma ostarda dai che cazzo hai detto lo tiro eh ok arrivo allora andami a vedere allora io ho fatto qua adesso dovrei una strana di sicuro non l'ho fatto però andiamo lì o andiamo di qua forse è meglio andare di qua eh verso timpani poi andiamo verso stretto dai io ti seguo tu dimmi eh sennò stavo valutando se era meglio andare di là o di qua aspetta fammi riprendere fammi riprendere la mitraglietta cosa che avevo lasciato perchè non c'ho armi ragazzi c'ho solo la mitraglietta e l'assalto e basta eh c'ho un po' di munizioni se vuoi faccia roba andiamo 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 non sai dove eh guarda la taglia eh no no la taglia lascia perdere me lo dà è dietro eh andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti aspetta mi sbrigati 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 ma quando ma eh c'è che pure c'è nessuno qua devo trovare un altro blu eh un altro cromo se lo trovi eh perché ne ho uno solo ne ho me ne servono altri eh cromizza una pianta ma io forse l'ho fatto già lì e gli spari leandro dice cromizza una pianta e sparagli allora aspetta faccio qua allora sto con spara spara ecco vedi 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 il resto se aspetta aspetta ok 8 su 10 sono me ne mancano due ma non so se era stretto sono lento l'ho già fatto aspetta che guardo un attimo sottra di di oh qua ti rilascio uno scudo eh dove c'è la cosa no vedi io non so ok faccio uno scudone c'è uno splash qua i scudoni io ne sto portando eh ah ne ho due scudoni io tu ne hai due ah non sei bene vuoi tu dai ti lascio qua vabbè che ho preso ho preso un'arma qua aspetta un attimo che vado sui superiore qua che c'è mi faccio ma tu cosa che ti fa? ma ci sono ma tu come? ma tu come? ma tu che sfida stai facendo? eh quella che devo sparare a i tipi ah ancora quella stai facendo ah si da ancora vabbè non l'avevi fatta allora vedi no non l'avevo fatta no non c'è qualcuno dietro che sta sparando eh ecco quelli della taglia quelli sicuro andiamo? fermando la safe però eh un secondo stanno arrivando la safe te la dica stanno arrivando pure questi da dietro anche ah lo so ma che devo farlo ma dove stanno? andiamo andiamo dai eh addio ora io non so se qua l'ho fatto no qua crocevia beh dobbiamo mandarlo forza la comunque tiblobizzo? tiblobizzo ma ce l'ho eh come tiblobizzo ce l'ho ce l'ho dobbiamo andare proprio in città eh eh così muoviamo eh non so ma devo fare sta cosa qua andiamo via però vediamo se come lo calcola qua sopra oh non va? ok l'ho fatto eh l'ho fatto attenta che ci sono passi ho visto eh oooooo mossa 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 importa che was shing usa il brob usa il brob ja ora ne va друзья o anomaly o ma dov'è? no da sopra uno lo battuto no Ma va cagare va E' meno che erano in due No una macchina No arriva l'altra gente Scappa 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 Eh l'ho fatto Addio Scappa 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 Seguimi Oh qua 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 andiamo qua A sinistra Sacrario Devo andare lì a farla la missione Sperando che me la da C'è uno spruzzino quasi Non andare verso di là Non so se lo Vai avanti Non fermarti perché se no io sono morta No no infatti se no andavanti vai avanti Non credo di averla fatta qua eh Chi è che ha sparato Io Ne manca uno Non so se me ne manca uno Cazzo Non c'è bisogno neanche di usare il coso in teoria Il cromo Ok fatto fatto Ma lui era l'ultimo E mancato C'è qualcuno La munizione c'è uno Vieni da me Che è un bordello C'è uno col coso lì E' assalto Cosa vuoi anche Altra roba vuoi Oh che cazzo ho fatto Ma le hai perso le musiche Le hai perso Sì sì Aspetta se faccio il scudo qua Allora Eh ora cosa manca scusa Sintonizzo la tv Un'altra volta Aspetta che qua Ma non dice dove però Ecco No è fuori safe No è fuori safe Niente La prossima parte li devo fare Aspetta che io qua Oh Wow Oh queste cose te li sto lasciando Se li vuoi Almeno mi servono più Cosa Promo Tuoi pietri fornisci Allora Ehm C'ho due chiavi Aspetta che io Abbiamo un po' da prendere Qua la Ma noi saremmo anche incinti un po' Sinceramente Insomma che cosa che facciamo No No Che no Quella non mi hanno fatto Piegare niente Appena sono arrivati C'è l'assalto Non ce l'ho verde ancora Ce l'ho assalto verde Sì Sto andando qua nel lucchetto Per vedere Tu vuoi qualcosa C'ho due chiavi Possiamo pietre qualcosa Ciascuno Se vuoi Vediamo cosa c'è qua Non so No ma hanno già preso No Non hanno già presi Cazzo Hanno già preso C'è questo C'è gente qua Gente qua Gente qua Gente qua Gente qua Gente qua Ho visto passare Non ho più È davanti a me proprio Sì Non so Che faccio D'angolo a te Non so No no Aspetta venendo io Beh sì Siamo giusto in mezzo Eh ma qua Si è messi bene In realtà Perché comunque Siamo anche alti Dove sei? Sì qua sopra? Se ci riuscissi Andato in su Andrei anche qua su Ma Dove fai andare più su Con il blob Forse Non lo so No 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 Eccolo Uno è lì Ah l'ho colpito Minchia l'ho battuto No lo sto andando a curare Già ti manco il tempo Guarda Eh no 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 Marta Perché mi fa sto tiro Ma hai detto Mi fa cadere Non capisco il perché Eh là Attendo Attenda Attenda che ti stai Attenda che mi hanno Cecchinato a me Non ti mettere lì Mi hanno colpito Eh Non capisco Da dove cazzo Ma da dove è? Ah ma è sopra Eccoli là No no Attenda Da dove? Non lo so No è uno è lì Però non so se Ah ecco Ecco Beh andro hai cura eh Eeeh Mini scudi No cura della vita no Dobbiamo trovarle Ce ne bende qua sotto Eh Ma sono andate Dove sono andate Quelli Ah Quello Uno l'ho ucciso Non so se era Di quelli La Boh Sono era un altro Ancora Quello Però Oh Avete rotto Il cavolo Guardate Dove è che Sparano Oh quelli lì Dove cazzo Stanno Se mai non vedo Quelli là Che sparano Di là Vedi questi qua Dove cavolo è che Stanno sparati Ah Eccoli là L'ho visti Eccoli là Eccoli là I maledetti Qua Stanno andando A sinistra Eh ci sono Gli alberi Davanti Stanno andando Anche da dietro C'è arrivato Uno da dietro Eh Oh Stanno andati a mettere dentro qua Aspettarli che arrivino Eh Ma tu c'hai il DMR C'hai allora C'ho la DMR Cobra Ma quell'altro DMR Non c'è più No Ma quelli che erano qua Non ci sono più No Eh sono andati Credo lì Eh ma Non li vedo però Si sono spostati comunque C'è gente qua sopra Occhio che ti cecchino No eh Sei sicura? Sì Come la sopra? Come fa ad andare la sopra? Eh Non ho appena visto uno là Ma io vedo No ma secondo me Ah ma c'è Ah no pensavo Eccolo Sopra di loro là sono Sono qua sopra Trovo Ah bravo Ah è morto Già che scemo Vabbè comunque l'ho ucciso proprio Quindi Uno è qua Guarda dove sta correndo Eh è andato dietro la cosa Andato Quanti siamo? Sette Attenta eh Sette Sette Allora quello lì è di là Eccolo là Minchia Ma rompendo non l'ho preso Ma devo venire avanti ancora Dove cazzo è Eh qua C'è arrivano qua eh Ma dove è andato? Ah Valedetto È dietro qua Dietro quello eh Dietro la collina Eccolo che viene Ma porca Mi avessi preso meno una volta Cazzo Non dico Ma sta arrivando? Non mi hai preso dietro No no Andate qua dietro Adesso non si vede più Perché c'è la cosa qua davanti Tipo qua dietro Dietro di noi Ah che devo stare attento Perché se vi va vicino Ah infatti Ah infatti Ah noi siamo sette Ma scusa ma allora Qua siamo quattro squadre Uno è quello lì Boh Stanno volando Stanno dentro qua Quando ci arrivano C'è c'è Stanno volando No se viene qua sopra Ecco Proprio qua sopra di noi Ecco Eccolo Attende eh Eh ma tanto Se scendi siamo in due Aspetta posso fare una roba Aspetta posso fare una roba Però lì devi Eh posso buttare la cosa Però a te ti scansa via Se mi metto qua dietro di te Non mi scansa via vai Io l'ho rotto Ah ma pure in due erano Oh merda Ah merda Io sono andata Eh te l'ho detto Eh vabbè Ma cazzo No 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 Ma cosa ho ucciso Merda Scendi scendi Ah brava lì Cazzo Ma tu mi hanno quasi Mi hanno quasi sceso Con il maledetto Sali Sali Più possibile Però questa ho l'idea È funzionato però Quello che ho detto Eh Sì Sali qua su Se ora arrivo Aspetta fammi curare Aspetta che devo Non so se prendo il cecchino Perché adesso siamo qua Eh no Secondo me no Lì è meglio di no Non mi non serve Meglio di no Che altro è Mi sa che me lo Me lo levo anch'io Mi sa eh Mi prendo gli scudi Vada piuttosto Aspetta perché Piuttosto Mi devo prendere Che assalti ci sono C'è questo qua Lala Coso Devo prendere il scudo qua Che c'è Non so Un pompa Mi devo prendere Guarda come facciamo Adesso Ma voglio Vieni qua Sono sopra qua Mi sa È proprio qua Porca miseria Deve cazzo è Sono sopra Sono sotto Mi sa che sono tutte sopra Mi sa Stai qua sull'angolo Attenta che potrebbe Spuntare Potrebbe spuntare dal muro Ti attenta Noi siamo dentro qua Sì Sì Più o meno Mi sa che è sopra Mi sa che è sopra Aspetta 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 che uscire Non so Ma siamo Ma gli altri Dove stanno Gli altri Devono stare Di qua Di sicuro Verso di là Andiamo sotto Leandro Ma stai sicuro Che è sopra Non scende Ma mi sa che è andato Cos'è andato via Eccolo Uno è qua sotto Qua sotto Qua sotto Qua dietro Dove cazzo è Aspetta aspetta Poi questo ci piglia da dietro Non ho col cazzo Ma dove stanno tutti Ma gli altri Oh Sto sbucato cazzo Ah ma sono qua dentro Ah è morto Ma l'ho ucciso Ah ma l'ho ucciso Ah ma l'ho ucciso Ah ma l'ho ucciso